No, è un altro, aspetta, gradino, gradino ancora, altra stanza ancora. Ecco, questa era una delle sale del ricevimento, quando venivano ospiti, diciamo, più importanti, veniva qua, facevano discussioni, diciamo, di politica, di commercio, della situazione sociale dello Stato, e parlavano con l'uno l'altro, e certamente che venivano uomini, e che lui poteva regarare, regarare da uno dei concubini della sua lare, perché c'erano tantissimi qua. E così potete vedere un bel, la facca, diciamo, coloni di legno, guardate, come alta questa colonia di legno, sotto colmarlo, tutti i piastrei sono originali, che non è, non è stata mai restaurata, non è stata costruita così, mantenendo dai nostri giorni. E le due rotonde, e il fondamento di una iurta. Mura rotonde, sono il basamento di una iurta. Perché dentro, quando facevano un palco, in estate, entravano dentro, sempre faceva spesa. Quando, d'inverno, facevano molto palco, e freddo, freddo, secco, entravano dentro della iurta. Vedete? C'erano due iurte. Adesso ne abbiamo solo fondamentali, sopra non c'è la iurta, non c'è la tenna. Forse l'anno prossimo faranno, per darvi un'idea, poi dopo la vediamo. E questo, tutto quello che vedete, è originale. Le due strelle migrate, sono quelle messe nuove. Perché noi, loro che venivano dall'altra parte del mondo, non sono sempre da soli. Ma dietro alle stanze delle moglie, nel labirinto, così detto, e lui percorreva per scegliere la maglia, e non farci vedere le altre, qual'era la scelta. delle stanze delle moglie. Sala di ricevimento. Allora, lui riceveva ospiti, i masciatori, governatori che venivano dall'altra parte del mondo. Loro non è che venivano solo per un giorno, rimanevano per una settimana o un mese, che lui non poteva ricevere questi ospiti più importanti solo in una sala. E certamente lui doveva cambiare i suoi sale con fine ricevimenti. Così questa era un'altra. Ogni volta lui faceva vedere l'altra sale. Certamente anche questi ambasciatori quando venivano e entravano e dicevano Ah, ieri è quello fatto che ci ha avuto la lasa e oggi è questa. Sono tutti diversi. Anche loro, per loro era una cosa diversa. E poi guardate il soffitto, anche la parte interna. Il soffitto è così alto che d'estate quando fa 50 gradi qua. Perché se da noi facciamo 45 gradi là e qua si fa sempre 50. E fa anche il caldo d'inverno. E questa qui, come l'altra, sempre facciamo presto d'estate. Perché rimanere d'estate qua era più importante. Perché da noi quasi sette mesi fa molto caldo. L'altra. Ma sì, ma io non l'invidone non l'info. Ancora là. Si, non l'infinito. Un po' a pendere, la santa verità. Ma anche sto muro non è perfettamente a piombo. Il muro questo. Non è a piombo, ma vien tutto in avanti anche la... Ma come a Shibam credo che facessero l'efenso dei nuovi. Ma il minareto qua che si è dritto da una parte. Ma prendila da là. Aiuta qua plastica. Tutte le fortezze sono così, larga la base e rastremate verso l'alto. L'importante è che siano gritte. Tu dici. Ciao, ciao, caro, vicinini. No, no, vai, Iada. Tranquilla. Siamo ritornati al punto di partenza. Cittadella, come vi ho già spiegato, l'Arc abbiamo visto anche a Bukhara, la cittadella. Cognar, la vecchia cittadella. Vi ho detto che Kiva è stata come la capitale del Corismia nel XVIII secolo. Prima era l'Urgenge, ma governatori di Kiva, esisteva anche prima la città Kiva. E la cittadella era questa qui. Tutti i governatori di Kiva abitavano dentro di questa cittadella. Ecco perché Cognar vuol dire la cittadella vecchia. E poi questa qui era la piazza più importante, dove facevano le feste, dove facevano anche l'esecuzione. E poi era dove facevano chiamare tutta la città, perché se il Khandi che era più crudele, i governatori di Kiva, ecco perché se facevano l'esecuzione, portavano la prigione di qua e facevano l'esecuzione in questa piazza. E poi davanti c'è una matrazza originali. Entrati dentro al cortile del palazzo del Khand. Sempre all'interno del palazzo del Khand. Copia della trama in argento. L'altro se lo sono provato via ai sovietici. Kiva vista dall'altra. Questa è la maggiore. Questa è la maggiore. Quattro, quattro, quattro. Quattro. Ficcii, c'era un giri, 3 giri intorno della sua città a vedere cosa sta succedendo. Cosa c'è? Madonna, guarda che grande, come fai? E la città si vede? E tutto è pianura, vedete, è tutto piatto. Non c'è niente. Con quel cavallo andava? Con il cavallo con la sua carrozza anche. e poi vedete che il deserto si vede subito guardate la a me è una città grande città abbastanza piccola si era un piccolo ora ci mettiamo vicino al palo guardate una cosa vuoi le altre mura